Una bianca classica, facciamo vedere il paniello in che condizione si trova Ok, procedi Questa quante ore ha fatto? 24, no 22 Quante li ha pretto? Di a pretto le ha fatte fino a mezzogiorno Quante ne ha fatto? No, no No, non ce l'ho da oggi Da pretto le ha fatte sul cuore, sì Ci sono manco sul cuore Questa però è stata stagliata leggera La palla di ustica La palla di ustica, la palla di ustica La palla di ustica, la palla di ustica Ma lo si chi ha un pochino Che non mi veda Io dappure 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 vabbè sale grosso questo giro salta ma sarebbe bene si dipende poi se uno ci mangia il salame mangia la mortadella si può anche evitare vedi se riesce a rubare un po di sale grosso ecco la caccia al sale grosso l'ha trovato l'ha trovato grazie bravo scusi si può mettere di profilo per scontrollare aspetti 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 che qui ci sei? quando lei dice vai questa è la girata mica tanto ottimo sarebbe se questa fosse la girata è la girata in che condizioni raccoglie voilà sono buoni vai ed ecco la estrazione hai detto qualcosa di santo? coce hai detto qualcosa di santo? guarda quante le... beh vieni guarda che cos'è c'è un po' di scherzo guarda come ci reagia un po' slow motion no ci sto facendo proprio la navigation una specie di endoscopia giuda sì vas qui ciao ciao